Dirigente storico, Presidente, tutto quanto quello che vuoi, l'anima, il cuore del San Termete. Partiamo questa volta da una cosa diversa. Tutti gli anni tutti ne parlano, tu sei orgoglioso di questa cosa, però quest'anno dopo due anni di tornare a ripetere una manifestazione come il Protti, causa Covid, lo ricordiamo ai nostri spettatori, non si è potuta sviluppare questa manifestazione nelle ultime due annate, avete avuto un successo incredibile. Io l'ho seguito personalmente in prima persona, appena finito il torneo, già subito le squadre mi hanno chiesto l'adesione per il prossimo anno. Allora, tu che sei il principale organizzatore, insieme anche ad altri dirigenti del San Termete, a quanto ammonta la tua soddisfazione? Tanta, tanta, perché ricominciare dopo due anni per questo torneo è un segno che si riprende. Però, lì, abbiamo fatto dei sacrifici, abbiamo dovuto tagliare delle cose, però a livello organizzativo penso che siamo andati alla grande, insomma. Devo anche ringraziare, perché lo devo fare, altre società, tipo Nuova Feltria, Pietracutta, Villa Marina, Savignano, Sant'Arcanzo, che ci hanno dato il campo e, oltre a darci il campo, ci hanno dato una mano veramente nell'organizzazione. E quindi mi sento di ringraziare, insomma. Questo è doveroso. Juventus, Inter, Milano, solo per citare tre informazioni presenti. La cosa più bella, che mi permetto di sottolineare, qui si capisce quello che diceva anche il presidente Alex Martino, e tu adesso me lo ribadirai meglio attraverso questa intervista, il concetto di crescita di questa squadra, perché la tua formazione, una in particolar modo del settore giovanile, il protagonista al Protti, ha perso proprio all'ultimo secondo la sfida con i più titolati della Juventus, però i ragazzi avevano il rammarico appunto di aver perso di misura dicendo ma noi questo punto ce lo potevamo prendere, perché no? Potevamo pensare anche per un attimo a una vittoria che sarebbe stata del clamoroso. Qui forse il San Termete dimostra l'ottimo lavoro fatto in questi anni a livello di settore giovanile, a livello di mentalità, e anche la mentalità acquisita da parte dei vostri ragazzi. Sì, sì, adesso bisogna essere anche onesti, questa è la squadra più forte che abbiamo avuto a livello di giovanissimi negli ultimi anni. Il San Termete è ritornato a fare il torneo Protti, perché non aveva settore giovanile dopo più di dieci anni. L'abbiamo fatto con una squadra competitiva, anche se l'onore del vero che era anche sopra età, perché i dilettanti giocavano con i 2008 e sappiamo che a questa età un anno vuol dire, però confrontarsi con queste squadre titolate e giocarsela è stato un vanto. Puglia li abbiamo trattati come le altre squadre, li abbiamo mandati in hotel come le altre squadre, quindi si sono sentiti squadre professioniste, e ancora ne parlano, e ancora loro, e ancora vivo, tutte queste esperienze. La cosa bella di te, avendoti conosciuto soprattutto nelle ultime due stagioni, è quello di normalizzare tutto, mantenere sempre calma la situazione, non entusiasmarsi troppo, ma nemmeno abbattersi troppo. Lo scorsone, quello che mi è piaciuto da parte tua come dirigente, rappresentante San Termet, è stato quello di vivere la normalità, mantenere sempre nei momenti bui, nei momenti più belli, quella tranquillità necessaria per mandare avanti la stagione. Allora ti chiedo, nella prossima, vedendo che stasera abbiamo presentato il ritorno di Mancini, e un bomber d'eccezione come Pasolini, cosa ti aspetti tu Maurizio? Beh, è chiaro che si aspetta sempre di fare bene, perché San Termet non è che può dire, fare tanti proclami, di fare bene, chiaramente, io, avendo 66 anni, ne ho visti tutti i colori, quindi riesco un po' a gestire le emozioni, anche se non è facile, perché è uno che vive di passioni, dai, sarei bugiardo dire che non soffro per la squadra, o non mi arrabbio, però, essendo il dirigente più anziano, devi anche dimostrare ai ragazzi un certo comportamento, tanto il discorso è questo, così. Bravo, complimenti, continuate così, perché le soddisfazioni arriveranno anno dopo anno, a partire appunto dalla cosa più bella che avete organizzato, come il Protti. Sì, vabbè, adesso noi, le nostre soddisfazioni, è fare calcio a San Termet, per cercarlo di fare bene, non è facile, perché comunque, San Termet, l'hai visto, sono quattro case, e noi a livello di società siamo molto indietro rispetto a altre squadre blasonate che hanno strutture, hanno impianti dove noi è lì e pecchiamo di brutto, insomma, però dai, San Termet ci sarà.